Per noi è importantissima, un campionato un po' strano, siamo partiti lenti, ci siamo ripresi nelle ultime due partite e adesso arriviamo dove stiamo in una zona neutra, guardiamo i play-off ma soprattutto guardiamo dietro alla zona play-out. Vincere sabato per noi ci mette lì a due punti dai play-off e guardiamo il giro di ritorno con un'altra aspettativa assolutamente. E' soddisfatto di come sta andando fino adesso la stagione? Assolutamente, sì, la prima squadra, ripeto, antatenante nel giro di andata, la Juniors invece è un'ottima squadra, i ragazzini vanno bene, stanno facendo una bellissima figura e soprattutto li stiamo portando a facciarsi con i grandi, per noi è tanto.